In questa puntata, Inchiesta Cheu, il lungo dibattito in Consiglio. Il lungo dibattito sull'inchiesta Cheu si è chiuso con l'approvazione della proposta di risoluzione presentata dal gruppo PD, respinti invece altri atti di indirizzo presentati da Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Sull'argomento è intervenuta in aula anche l'assessore all'ambiente Monia Monni. Abbiamo ascoltato due comunicazioni dell'assessore Monia e del presidente Gianni che hanno dato un quadro chiaro di quello che la regione toscana ha fatto negli anni che ci stanno alle spalle e quello che vorrà fare in futuro. Sia dal punto di vista dell'impegno per contrastare l'illegalità, la criminalità e tutte le azioni degenerative che si annidano anche in Toscana. La regione ha regolato, la regione ha controllato, la regione ha diffidato, ha regolato nel momento in cui ha fin dal 2004 affrontato il problema di una maggiore sostenibilità con l'accordo di programma che ha coinvolto le amministrazioni locali, le imprese, il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di quello che in molti definiscono il tubone. Quindi la creazione di un impianto misto per lo smaltimento delle acque reflue sia provenienti dalle aziende sia provenienti invece dalle abitazioni civili. Ha diffidato perché questa indagine probabilmente è partita da un rilievo che ha fatto l'ARPAT in relazione allo smaltimento di un altro tipo di rifiuto quello che poi prevede la creazione del cosiddetto CHEU, quindi queste polveri, questi fanghi che poi vengono smaltiti. L'ARPAT ha detto che non potevano andare direttamente in situazioni di riciclo nell'ambiente ma dovevano essere depositati in discarica. E poi non si è limitata a questo perché ha cercato anche di aiutare uno che è uno dei distretti di maggiore eccellenza che abbiamo in questa regione. Perché nel momento in cui ha posto questi stop all'utilizzo del CHEU dove poi invece probabilmente è stato destinato in maniera illegale ha anche individuato una discarica dove si poteva andare per non lasciare nella difficoltà gli operatori. Ovviamente qualcuno ha fatto scelte diverse probabilmente per avere dei minori costi. Noi che come Partito Democratico siamo i primi ad essere garantisti nei confronti di chi si trova magari nell'agonia mediatica e gli auguriamo di dimostrare le non responsabilità ma siamo anche quelli che vogliono chiarezza, che si pongono sul versante della massima legalità e lavorano per questo. Gianni è venuto in aula perché noi abbiamo richiesto la comunicazione con ben 15 domande. Alla metà lui di fatto non ha assolutamente risposto e nelle altre si è limitata a risposte molto blande. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire, deve essere chiaro in aula perché portare chiarezza all'aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva due settimane da quando siamo stati resi edotti purtroppo di questa inchiesta a livello regionale, due settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile perché leggiamo giornalmente e vediamo sulle tv tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da essere risolta. Sappiamo che ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare il Presidente con il suo capo di gabinetto. Lui dice che ha avviato una procedura ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento, basta semplicemente rimuovergli l'incarico e fargli cessare il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che ha un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire, però c'è necessità di agire velocemente altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. Quindi continueremo a chiedere quelle cose a cui non abbiamo ricevuto risposta all'interno della commissione di inchiesta che abbiamo chiesto insieme a tutto il centrodestra perché riteniamo che portare avanti la strada della legalità, della chiarezza e della correttezza sia il minimo di quello che si può fare quando si siede all'interno delle istituzioni. E il Presidente Gianni speriamo che chiarisca meglio rispetto a quello che ha fatto in aula le sue posizioni nelle prossime ore perché avere un Presidente significa anche avere la responsabilità di tutti i cittadini della Toscana e abbiamo chiesto a lui di mettere al centro la sua onorabilità anche per la prosecuzione di questo mandato e purtroppo ad oggi devo dire che le sue risposte probabilmente sono state scritte da un bravo legale ma non certo da un bravo politico. Ho detto semplicemente che questa inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sviluppato due differenti discussioni. La prima riguarda le presunte infiltrazioni mafiose in Toscana. Intanto oggi l'Aula ha riconosciuto, tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in Toscana e si fa sentire e questo è già un primo traguardo visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia. Quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto. Questa è la prima parte, la prima discussione riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici condannando a morte di fatto tre generazioni minimo di cittadini toscani. La seconda invece discussione è una discussione tutta politica e non può il Presidente Gianni, non può la maggioranza trincerarsi dietro il la magistratura deve fare il suo corso perché la seconda discussione che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica è una discussione tutta politica e deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale che è l'assemblea che rappresenta tutti i cittadini della Toscana cioè noi vogliamo sapere se in Toscana esistono dei centri di potere che siano i conciatori di Santa Croce o che siano chi vogliono ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini chi fa l'assessore, chi fa il dirigente in regione toscana che scrivono leggi, che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro, che vengono votate in maniera anche poco trasparente questo lo vogliamo sapere dalla politica, non dalla magistratura le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche invece quelle politiche erano quelle che secondo noi il Presidente Gianni doveva dare in questo momento perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni, dalle fonti di stampa appare essere drammatico per il modo in cui la maggioranza che attualmente ha il governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio le aziende, le imprese e quant'altro è gravissimo per chi apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto delle attenzioni delle mafie e questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla Regione Toscana in questi anni e di cui anche il Presidente Gianni ha parlato di fatto allora sono stati inutili e che i dossier che vengono fatti in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana non vengono ascoltati o forse presi sul serio e questa è forse la cosa più grave noi non riusciamo a dare garanzia ai cittadini per quello che succede e se davvero dovesse emergere cosa che mi auguro non accada mai che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere intanto una presa di posizione forte da parte nostra di solidarietà alle persone ovviamente indagate alle loro famiglie massima fiducia nella magistratura bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste esiste in Toscana, in Italia come nel mondo è molto forte serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale bene che la Toscana si sia definita parte offesa a mio avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno perché non ha aiutato nessuno e quindi bene come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni del fatto di eliminare un emendamento se anche questo può destare una semplice dubbio all'interpretazione diciamo di una norma perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti non è perché cambia il colore politico di un indagato perché cambia il nome cambia la nostra idea la coerenza è quella che ci appartiene e ci apparterrà fino in fondo per questo motivo anche oggi in aula abbiamo ribadito alcuni concetti il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo primo proponente Forza Italia firmato da tutti i colleghi di centrodestra abbiamo chiesto una commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana vedete i report che ci sono stati negli anni a partire da quello della fondazione Caponnetto ci mettono un campanello d'allarme su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale noi vogliamo estrema chiarezza vogliamo far luce vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi il 15% del PIL Toscano 6 mila addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi e se c'è qualcuno che ha sbagliato quel qualcuno deve essere allontanato ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare noi dobbiamo sostenere quel distretto Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle e di un altro consigliere la nomina delle 20 componenti della Commissione Pari Opportunità La Commissione Pari Opportunità dalla sua origine rappresenta tutte le forze politiche all'interno dell'arco del Consiglio regionale e quest'anno per la prima volta non avrà una delle componenti quella del Movimento 5 Stelle perché le opposizioni hanno deciso in tre gruppi che sono di accaparrarsi in una sorta di bulimia delle poltrone tutte e sei le posizioni per le nomine da loro scelte e questo è significativo e oggettivamente singolare da parte di gruppi politici che ad esempio hanno votato contro o si sono astenuti per quanto riguarda la promozione della legge ZAN e soprattutto denota un atteggiamento dal punto di vista di accaparramento di posizioni che in questo caso sono soltanto onorifiche che fa veramente poco onore al senso istituzionale e al rispetto che si dovrebbe avere all'interno di questo Consiglio Il Presidente del Consiglio regionale commenta positivamente l'attivazione del numero unico di emergenza il 112 anche nelle province di Pisa e Livorno ultimo tassello della copertura del territorio regionale Posso dire prima di tutto che sono orgoglioso orgoglioso del lavoro che è stato fatto in questi mesi oggi si completa un percorso oggi tutta la Toscana avrà un unico numero per accedere dalle forze richiesta di accesso alle forze dell'ordine ma anche al sistema di emergenza il numero 112 un lavoro importante guidato dal dottor Lubrani a Firenze una centrale operativa importante che è in grado di localizzare con estrema precisione da dove arriva la chiamata in pochi secondi di dirottarla alle forze dell'ordine piuttosto che ai mezzi di emergenza perché le nuove tecnologie oggi ci permettono di fare tutto questo a in piuttosto che aiutiniano ormai a in piuttosto che aiutiniano